60 anni della Fracor, Maurizio Nuzzi a portare la torta insieme a tanti ex compagni, come ex atleta della Fracor, insomma 60 anni di un team importante. È un team che nel nostro Valdarno è una società molto storica che ai tempi che corrono fanno dei grandi sacrifici e questo è una cosa molto importante per il nostro Valdarno e per noi ex corridori che è una soddisfazione avere corso con una società così grande. Un ricordo di Ezio Mannucci? Ma Ezio è un mito, Ezio è una persona eccezionale, è più che un babbo. Ezio quando aveva bisogno bastava che alzarsi la cornetta del telefono, Ezio era disponibilissimo in tutto. 60 anni dove il ciclismo è stato l'unico stile di vita di Ezio Mannucci ma dove sono passati tanti ciclisti che hanno avuto anche storie poi importanti. Sì, infatti la Fracor ha avuto tantissimi grandi campioni a partire dai Petito, dai Collagé, dai Montedori, dai Butarelli e su su fino agli anni 2000 e ad oggi. Lunga vita quindi alla Fracor? Lunga vita alla Fracor.